La Polizia di Stato invita a prestare la massima attenzione alle truffe dei falsi impiegati che si presentano nelle case, soprattutto di anziani. La volante dell'Aquila infatti è intervenuta nei giorni scorsi nel centro aquilano, dove una coppia di anziani è stata derubata nella propria abitazione da due donne che si sono presentate come dipendenti dell'Inps. Le false funzionarie sono entrate con la scusa di dover dare consigli sulla nuova normativa pensionistica. Poi l'uomo, su invito delle due ladre, si è allontanato per andare a chiamare sua moglie, che si trovava in quel momento da un'altra condomina. Ed è proprio in quel breve lasso di tempo che le due hanno sottratto circa 1000 euro che la coppia di anziani teneva nel comodino della camera da letto. Al rientro della coppia, dopo un veloce colloquio, le due donne si sono allontanate. A quel punto i padroni di casa, insospettitisi, si sono accorti della mancanza del denaro, richiedendo l'intervento della volante della Questura dell'Aquila. La Questura rivolge appunto un appello a figli, a nipoti, a vicini di casa di persone anziane, affinché ricordino sempre loro di prestare la massima attenzione a chi chiede di entrare nelle loro abitazioni, affermando di dover controllare la posizione pensionistica contributiva, il contatore del gas, della luce, per poi rubare o farsi consegnare denaro ed oggetti di valore. Talvolta i malviventi si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine. In questo caso si raccomanda di controllare dallo spioncino e aprire la porta col catenaccio, chiedendo di esibire un tesserino di riconoscimento anche se dovessero indossare l'uniforme. Occorre ricordare che di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso, che indica il motivo, il giorno e l'ora della visita, del tecnico e nessun ente manda personale a casa per verificare l'eventuale presenza di banconote false, scusa solitamente utilizzata per vedere dove una persona conserva il denaro in casa. Le vittime prevalentemente sono persone di età compresa tra i 60 e i 90 anni, il cui numero è sempre molto elevato ogni anno. In ogni caso, se si hanno dubbi, anche i minimi, che la persona non sia quella che dice di essere, la polizia ricorda che è assolutamente necessario telefonare al 113 o al 112.